Ciao a tutti, sono Jack. Ho 17 anni e vivo con mamma, papà e mia sorella. Siamo una famiglia normale. A scuola me la cavo bene. Non sono super popolare o altro perché sono un po' timido, ma non sono nemmeno impopolare. Sono molto bravo negli sport e di sicuro voglio proseguire questa passione quando andrò al college. Comunque voglio raccontarvi di Danny, il mio amicone, e Amy la ragazza dei miei sogni. Ho conosciuto Danny a 10 anni. Eravamo entrambi in piscina e allora ero energico e beh, facevo molte cose senza pensarci bene. Ho iniziato a sguazzare in piscina e presto ho capito che non potevo appoggiare i piedi a terra. Non sapevo nuotare e sì, era un problema. Ero nel panico e cercavo di chiamare aiuto, ma una marea d'acqua mi è finita in bocca. Poi è arrivato Danny a portarmi nella parte meno profonda. Scoprì che era nuovo in città e avrebbe iniziato nella stessa scuola dove andavo io. Da allora siamo diventati amici. Danny è un ragazzo fico senza sforzo, alla moda e bello. Era sempre più popolare di me e piaceva a tutte le ragazze, ma ha deciso di essermi amico comunque. Stare con lui era divertente. Uscivamo, giocavamo a football e ce la spassavamo. A scuola con noi c'era Amy, una ragazza popolare e bellissima. Porta sempre bei vestiti e beh, si fa semplicemente notare. Il problema è che io non ero l'unica a notarla. Praticamente tutti i ragazzi avevano una cotta per lei. Non pensavo di avere una chance con lei, ma poi a scuola c'è stato il picnic. Sono finito nel gruppo con lei, così mi sono avvicinato per parlarle. Ero così nervoso da non riuscire a parlarle. Poi sono inciampato in un ramo cadendo per sbaglio tra le sue braccia. Lì ho immaginato che mentre ci guardavamo negli occhi, lei potesse vedere quanto mi piaceva per poi baciarci, uscire insieme, sposarci e vivere felici e contenti. Ma sì, questa non è la realtà. Nella realtà ero rigido come una tavola e così imbarazzato. Sono subito tornato in me e alzandomi ho sussurrato, scusa. Ha riso per poi dire, nessun problema, spero non ti sia fatto male. A sorpresa abbiamo iniziato a parlare. Presto le cose cambiarono tra me ed Emi. Parlavamo molto su Messenger e io spesso sedevo con lei a pranzo. Era così divertente e amavo passare del tempo con lei. Poi iniziamo ad uscire. Dovevo pizzicarmi per convincermi che sì, uscivo davvero con la ragazza più bella della scuola. Amavamo la natura, quindi spesso passavamo il weekend a passeggiare ed esplorare i posti nuovi. Il primo bacio è stato in camera mia. Dovevamo lavorare sul nostro progetto di scienze, ma non riuscivo a non fissarla. Era davvero bella. Così mi sono chinato e l'ho baciata. Eravamo come circondati da fuochi d'artificio, quando si dice magia. Poi siamo diventati quasi inseparabili. Spesso andavo al ristorante con la sua famiglia e lei veniva sempre a cena a casa mia. Tutto andava alla grande. Era la mia principessa. Con lei vicino ero sempre felice e non potevo immaginare la mia vita senza di lei. Poi una sera mi ha scritto, ti amo. Mi fece sorridere e risposi, ti amo anch'io Amy. Poi con mia sorpresa lei ha scritto, comunque cos'è l'amore? Non capivo cosa intendesse, ma prima che potessi scriverle di nuovo per chiederlo, mi ha mandato un video di lei con Danny, il mio migliore amico Danny. Poi mi ha scritto, questo è il vero amore. Non credevo ai miei occhi. Poi ho lanciato il telefono dall'altra parte della stanza. Avevo il cuore distrutto. Come poteva farmi questo e con il mio migliore amico? Ho pianto giorno e notte. Era terribile. Come se non sarei stato più felice. Non piangevo mai, quindi i miei erano preoccupati e cercavano di consolarmi. Ma niente di ciò che dicevano facevano mi rallegrava. Ancora peggio, temevo il ritorno a scuola e il doverli vedere insieme. Non mi facilitarono la cosa perché, arrivato all'armadietto, li ho visti baciarsi. Girava la voce che fossero molto innamorati. Alla faccia del suo amore per me. Faceva malissimo. A Danny non sembrava importare di avermi ferito e questo è il problema con Danny. A volte non pensa. Insegue quello che vuole senza tenere conto di chi calpesta nel farlo. Inoltre non eravamo più così uniti come prima. Dall'inizio delle superiori aveva iniziato ad uscire con qualche tipo cattivo. Gli ho detto che Amy era una bugiarda e che presto l'avrebbe lasciato. Ma ha fatto spallucce dicendo, beh beh, vi starete chiedendo perché sono ancora amico di Danny dopo ciò che ha fatto. Forse sono troppo buono, ma non posso rovinare la nostra amicizia di sette anni per questo. Già ho perso l'amore della mia vita. Non potevo perdere anche il mio migliore amico. Sì, mi sentivo tradito e furioso, ma Amy ha fatto la sua scelta e non sono io. Poi una sera stavo tornando a casa in metro. L'unico posto libero era di fianco ad Amy. Così mi sedetti vicino a lei. All'inizio era imbaracciante, nessuno ha parlato. Poi le ho chiesto, perché mi hai tradito? Ha risposto, beh, Danny è il ragazzo più ricco, popolare e bello della scuola. Ti ho usato solo per avvicinarmi a lui. Che brutto da sentire. Ero così furioso che ho scelto di stare in piedi per il resto del viaggio. Il giorno dopo ho provato a dirlo a Danny. Ha detto che ero solo geloso. Mi ha spinto e urlato contro che dovevo smettere di essere così acido. Non abbiamo parlato per due settimane. Mi sentivo solo, ma ho scoperto che Danny e Amy non erano le persone che credevo. Danny mi ha chiamato, ma l'ho ignorato. Mi ha anche scritto messaggi di scuse, ma non ho risposto. Poi un giorno si presentò alla mia porta con del cioccolato e mi chiede di fare una passeggiata nel bosco. Ho preso la GoPro. Come ho già detto, amo la natura. E in passeggiata riprendo sempre i paesaggi. Gli chiesi si amava davvero Amy. E con mia grande sorpresa disse che le ragazze sono come i chewing gum. Li usi fino alla fine e poi li sputi fuori. Ha detto che l'avrebbe usata ancora una volta prima di chiudere con lei per poi darla agli amici. E lui si sarebbe trasferito in un'altra città per poi ricominciare. Che scioccante da sentire. Sapevo che fosse incauto, ma non pensavo che il ragazzo che mi aveva salvato la vita a dieci anni fosse così crudele. Gli ho detto che non volevo più parlare con lui e sono corso via. La mia GoPro aveva registrato tutto il tempo, quindi era ora che vendicassi il mio cuore spezzato. Giusto? Però anche se Amy è stata cattiva, ci tengo ancora a lei. Ci ho pensato molto e alla fine ho deciso che meritava di sapere la verità. Così le mandai la registrazione. Anche dopo averla vista, disse che era editata per far sembrare cattivo a Danny e che ero geloso. Sapevo che i suoi la credevano dolce e innocente. Così le ho detto che se non rompeva con Danny, avrei mandato il video a loro. All'inizio ha cercato di resistere, ma poi si arresa pregandomi di non mostrarglielo. Poi ho scoperto che ha continuato a vedere Danny di nascosto per settimane, ma alla fine ha visto il suo lato oscuro. È anche venuta da me a scuola ringraziandomi per averla aiutata e scusandosi per avermi ferito. Non ho cercato di salvarla da Danny perché mi dispiaceva per lei o cose del genere. Piuttosto perché assistere a un crimine è grave tanto quanto commetterlo. Credo che per quanto Amy sia stata cattiva con me, non voglio vederla soffrire. Soprattutto non per quell'idiota. In realtà da allora mi ha anche cercato una volta chiedendomi di essere ancora il suo ragazzo, ma io non sono certo pazzo. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Quindi le ho chiarito che la mia risposta sarà sempre no e che dovremmo rimanere solo amici. Invece io e Danny non siamo più amici. Ho altri amici, ma è dura perché sento ancora la sua mancanza, ma non mi piace chi è diventato. Grazie per aver ascoltato. Spero non toccherà anche a voi, ma se vi capita, spero troverete la forza di fare la cosa giusta anche se sarà difficile.